Dopo la bella vittoria di sabato scorso che partita ti aspetti e che parella ti aspetti contro Mozzate? Mi aspetto un parella sempre attento, sempre propositivo e sempre umile per poter andare a prendere altri tre punti per noi importanti in classifica. Quali possono essere le insidie di questa partita? La disattenzione è dovuta alla salvezza matematica, dobbiamo riuscire a restare alti a livello attentivo, dobbiamo riuscire a restare umili, dobbiamo riuscire a pensare a quali sono comunque i nostri obiettivi di crescita visto che siamo una squadra molto giovane. Come si resta concentrati quando si è in una posizione di classifica con l'obiettivo salvezza raggiunto e altri obiettivi irraggiungibili? Con il lavoro in palestra, con il focus sui nostri obiettivi di crescita che non sono solo quelli dei risultati e con l'attenzione anche a quello che dovremmo fare nella categoria grande 19 con praticamente quasi tutto il nostro roster.